la cosa che mi colpisce è la proposta originale di un attore che elabora un personaggio e non porta solamente il testo ma che riesce ad elaborare un personaggio modellato bene sulle sue corde ma che sia però finente con la storia con il racconto portate le vostre esperienze nella recitazione portate quella che è la conoscenza del vostro corpo nella vostra gestualità nella vostra espressività nella vostra conoscenza gli attori sono da un livello di professionismo insomma ognuno poi è riuscito a dare è andata molto bene con noi raccogliendo in alcuni casi dei risultati molto molto interessanti grazie a tutti Grazie per la visione!